Non so se avete mai sentito la barzelletta dell'uomo che va dal dottore e gli fa Dottore io sono depresso, sono triste, il mondo mi fa schifo, la vita è una merda, non ho più motivo per andare avanti, cosa posso fare? E il dottore gli dice guardi ho una soluzione molto semplice Stasera a Padova, qui a Padova c'è il concerto di Tony Boy Vado a sentirlo e sicuramente la tirerò un po' su L'uomo si mette a piangere e il dottore gli chiede scusa ma cosa succede tutto a posto? E lui gli risponde dottore Tony Boy sono io